Il sindaco Peppe Pugliese è qui al comune di Monte di Procida. In questi giorni c'è stato un incontro in prefettura per quanto riguarda la situazione di Cappella e lo stabile che fa bloccare la strada principale del centro storico. Sì, si è tenuto un incontro in prefettura richiesto da me, richiesto per risolvere in maniera acelere la vicenda di Cappella che ormai tutti conosciamo. È una vicenda che sta mortificando la cittadinanza di Cappella da più prospettive, è una vicenda che sta tanto a cuore all'amministrazione comunale e non solo, a tutti noi. Allora, cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto il coinvolgimento del comune di Bacoli e della regione, con la regia della prefettura, così come è stato in altre occasioni. Ed io sono estremamente grato alla prefettura di Napoli per la grande collaborazione istituzionale e per il ruolo di guida che hanno assunto su diverse materie importanti. E quindi io come sindaco gli sono grato. E quindi mi piace sottolineare l'importanza dell'intervento della regione, che in un tavolo tecnico ufficiale ha dichiarato che esiste l'interesse della regione, la regione interverrà, che sta la regione studiando con i comuni come intervenire in maniera importante a Cappella. Quindi si è preso in un incontro ufficiale pienamente cognizione del problema e si ha rilevanza dell'interessamento regionale, che è stato sottolineato in questa riunione. Quindi un primo dato importante. Altro dato, abbiamo concordato col comune di Bacoli, una riunione a breve, a brevissimo, dovremmo vederci lunedì, per definire gli ultimi aspetti. E qui va chiarito un aspetto, un aspetto di fondamentale importanza. Voglio anche al fine di evitare titoloni sui giornali, sono certo in montediprocida.com non lo farebbe, magari qualcun altro potrebbe speculare su questo aspetto, quindi lo voglio chiarire bene. Esiste grande collaborazione istituzionale con il comune di Bacoli. Col mio collega c'è grande collaborazione, ci sentiamo spesso con Picone, così come c'è grande collaborazione col comune di Pozzone, che è il comune naturale capofila dei campi flegrei. Però, visto che non siamo in un regime di tipo totalitario, fascista, salinista, ma siamo in una democrazia libera, possono esserci, e capita tutti i giorni, come anche nelle migliori famiglie, che possono esserci delle diversità di vedute. Bene, vedete, io in grande onestà devo dire ai cittadini di Bacoli e Montediprocida che su questa cosa ho una visione diametralmente opposta a quella della nostra amica e fraterna amministrazione vicina di Bacoli. Perché noi riteniamo che in questo caso vada esercitato il potere di ordinanza. L'abbiamo chiesto anche in prefettura. Quando sono coinvolti ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, ragioni di evacuazione in caso di calamità, quando il commercio è allo stremo delle forze, sussistono diverse ragioni per esercitare il potere di ordinanza. E dove chiediamo che sia esercitato il potere di ordinanza? I primi lavori che vanno fatto con urgenza è quello di consolidare il palazzo che si trova nella peggiore situazione, nella situazione diciamo più precaria. Quindi bisogna creare un contrafforte attraverso un'impalcatura e deve poggiarsi su un comune che ricade dall'altro lato e quindi è comune di Bacoli. In questo caso l'amministrazione di Bacoli, per motivi legittimi, che io non voglio contestare, però io dico che ho un'altra versione, ha deciso che hanno ritenuto opportuno cercare una condivisione bonaria con i proprietari e non esercitare il potere di ordinanza. Una condivisione bonaria con i proprietari comporta che bisogna sedersi, bisogna ragionare queste impalcature, quanto tempo devono stare, di che tipo devono essere. Per quanto riguarda la sicurezza di queste impalcature, noi ce ne siamo già fatti carico pagando un tecnico di Tasca Nostra, come comune di Monte di Procida, che ha fatto una perizia di ben 90 pagine che è stata inviata a dicembre al comune di Bacoli. Quindi il comune di Bacoli può dormire sonni tranquilli perché queste impalcature, attraverso test effettuati su posto e verifiche pratiche e teoriche, è stato dimostrato che questa impalcatura non crea nessun pericolo a questo immobile. Quindi da questo punto di vista si può dormire su due guanciali. Dal punto di vista poi delle richieste che giustamente i privati avanzano nei confronti dei due comuni, dicono ma quanto tempo mi lasciate questi pilastri, cosa eccetera. È una discussione che benché molto condivisibile ovviamente se ci mettiamo nei panni dei privati, però può comportare tempi lunghi. E io ritengo in maniera forte e convinta che questi tempi lunghi non sono compatibili con la situazione che abbiamo a cappella, perché noi abbiamo una situazione preoccupante, assolutamente preoccupante. Siamo preoccupati in primis noi amministratori, quindi bisogna agire con la massima celerità. Quindi questo è, dobbiamo ritrovarci, risederci, ci siamo dati appuntamento a lunedì. Lunedì io mi sforzerò in questo weekend, faremo anche riunioni sabato e domenica con altri tecnici, verificheremo tutte le strade possibili praticabili, lunedì ci sederemo col comune di Bacoli e io credo e sono certo che sarà l'ultimo e definitivo incontro su questa problematica prima di partire. Perché poi dopo partiremo e io sono convinto, mi sono trovato quest'altra tegola sulle spalle, ma ormai credo di aver fatto le spalle larghe dopo le varie vicende di Torregave. Stamattina sono stato al cimitero, abbiamo trovato un cimitero in sgredolamento, lo sappiamo già da due anni. L'assessore Pignone ha fatto degli ottimi interventi, però hanno bisogno di interventi strutturali. Io credo che tutto questo Paese, se lo andiamo a prendere per le sue diverse componenti, ha bisogno di interventi di manutenzione che mancavano da anni. Il cimitero lo faremo, è stata protocollata una richiesta di project financing, su cui tra poco a giorni si esprimerà la giunta comunale, quindi rifaremo il cimitero comunale. Altri grossi interventi abbiamo in programma e ne parlerò tra poco. Però questo per dire che il Paese è in una situazione di difficoltà. Io credo di aver fatto le spalle larghe, credo che ormai come amministrazione abbiamo la maturità e la forza di affrontare queste problematiche. Purtroppo ci sono dei tempi, perché la situazione è complessa, dei tempi lunghi, ma questi tempi noi li vogliamo ridurre il più possibile. E credo che ci stiamo avvicinando alla fine di questa vicenda. Alla fine intendo, per fine della vicenda, intendo fine dei disagi e inizio del lavoro per consolidare tutta Cappella, perché io voglio risottolineare e concludo veramente che la situazione di Cappella non riguarda solo un palazzo, non riguarda solo due palazzi. È una situazione diffusa di distesso idrogeologico, quindi ha bisogno di più interventi istituzionali, ha bisogno della collaborazione di Bacoli e Monte. Ma io sono fiducioso che con i colleghi di Bacoli già da lunedì partiremo a cento all'ora su questa questione. Partiremo alla grande, perché c'è la volontà anche da parte loro di risolvere questo problema. Con la regia della Prefettura che ha promesso che ci seguirà passo passo e con l'intervento della Regione potremmo risanare una situazione complessa, complicata e delicata.